Per ora, è molto vecchia questa casa qui, io non vorrei dire ma secondo me risale più meno all'epoca dell'altra villa, secondo te? E' un po' più vecchiotto, un po' più giovane quindi, guarda che bello gli stucchi a quella porta, la la, lassù, che meraviglia, cioè qua è la porta, andiamo su, non vedi che non c'è una, aspetta che arrivo E' abbastanza sicuro qua, vai tranquillo, Beppe queste qua sono scale forti, c'è persino i rinforzi, i rinforzi, come si dice, cioè le finestre, notare E' la corrente, vero? Oddio, si mosseva il podio, no, niente, è un vestrello, ok, tranquillo, vai, beh, questo è un bagno No, niente, ok, è tutto ok Di qua, di qua, poi di qua, poi di qua, perché? Wow Io non so se capita solo a me o anche tu ti senti osservato? Sì Ok Qua c'ho una vetrata, la faccio vedere, la faccio lì dentro Ok, è una vetrata E' piena No, niente, ok Che vedero qualcosa che passava Oh mio Dio, mi sono presa un polpo Stai registrando? Sì Qualunque cosa fosse l'ho ripresa No, probabilmente è stata la mia impressione ottica, vero? Aspetta Beh, ma qua è tutto così, tanto, vero? Non è molto semplicita Cioè, tu hai visto che là c'è ancora un'altra porta? Si apre Poi riprendi un po' tu E facciamo la lavata Vai, vai 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 Non metti l'ansia quando fa così Dio che buio Sì Sì Vai, vai Vuoi vedere? No Scusa Io questa cosa non l'ho capita Come fanno a cerci delle scariche? Scusa Ma ho caio una soffitta E' una sbirciata dopo ce la diamo però Qui cosa c'è? A porta che porta fuori Scusa Cos'è qua c'è qua? Un altro bagno Piano però Se no non si capisce da niente Oh mio dio C'è mezzo bagno Vai giù Giù Se non si vede Di là Ok Più o meno Porte Sempre Particolari Qua la torcia serve Oh mio dio Qua voglio prendere tranquillo Perchè le scale sono molto forte Io ho paura però Ti avverto Riuscirò a scendere Essendo le soffro di In più di là Se sono scelta Riuscirò a scendere Che dice così? Madonna ragazzi Sì però se non mi fai luce qua Non vedo niente Questo è un solaio Un po' enorme Oddio il tetto Fai vedere il tetto Che è tutto ciancanato C'è acqua Cosa c'è lì? E' una palena Una palena? Oddio E' un'altra stanza Cioè ma quante mesi c'è in questa casa? Quante stanze sono? Non le abbiamo contate le stanze Ci vediamo No in tutto intanto Cioè è pieno di stanze Stanze Un calore Madonna Dove? Lo sento anche io Ma penso sia Penso sia il tetto Qua è luce perché non si vede Ma va anche nei No io non ne mi fido però Cioè qua cade tutto Qua è un'altra Enorme Ma non finisce più Cos'è quello? A vedere dentro? Si vede mazza Oddio Beppe Inquietante Beppe Wow Hai sentito? Beppe la palena ce l'ha toccata La palena la palena Non si vede la palena Eh ciao Eccola Vai vedere che c'è questa palena Ho detto palena anche da ieri Oddio Guarda guarda Dov'è? Eccoti qua Dove ci vuoi portare palena? Dove vuoi che andiamo? 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 Va giù? Beppe adesso però aspettami Posa Chiudiamo Ora Beppe ho visto qualcosa passare davanti alla porta L'hai visto? Si Si L'hai visto? Ma non c'è nessuno però Anche l'ampadario c'è ancora E' proprio bello Aspetta ok Oddio Aspetta Non mi sento tanto in quadro ok Oh mio dio Piano Ok 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 Mi sento più tranquilla giù Oddio 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 Cosa c'è lui? Non è che l'ha lavato vera Cosa c'è lui? Bene, è molto... Aspetta adesso, non si vede. Aspetta. Sì, va bene, ho capito. Ma c'è un buco. Via, via, via. Che cazzo è sta roba? Via, via, via. Aspetta. Madonna. E calmati però, che cavolo. Cioè, tu ti rendi conto di che meraviglia? L'abbiamo messo tutta. Minchia. Che cosa? C'è la vediamo come da fuori. Wow. Nulla? Cioè, tu vuoi dirmi che abbiamo messo qua tutto il giardino suo? Sì. Wow. Questa trottola. Devi parlare? Sì. Stai a vedere di strano mentre ho detto devi parlare. Sì, fa niente. Mamma, parliamo dentro. Che vuoi dire? Gervante? Un po' ghiacciante dentro, sinceramente. Sì, sì, tutta l'avevo vista. Esatto. Questo enorme giardino. Io li metto dove ci vado. Ci prendiamo. A cacchio. Che ruote. Ci fa vedere la nostra bellissima Tati. Sì. Che riuscita. Sì. 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 È veramente bello questo, però. Un tavolo. Un tavolo. Le panche. E una specie di... Un tavolo. Un tavolo. Un tavolo. Non approfitto. Un tavolo. Un tavolo. È bello. ho trovato un'altra casa in mezzo al nulla dietro al giardino della villa c'è troppo sole non si vede la notte dici che è pericoloso salirci è pericoloso no non voglio neanche saperlo rischiamo la vita questi rovi maledetti maledetti eccola lì ma che si vede di qua oh mio dio quanto è ma che roba strana ma lo sai che io da qua inquadrando lì sembra un volto cioè perché beh poi te lo faccio vedere cosa c'è bette facciamo vedere cosa stiamo facendo perché sembriamo due pazzi salto salto vuoi dire una penorme va via va via ok dove devo andare di qua destra dritta aiutami ciao ciao facciamo vedere l'immensità sempre se qualcuno vede qualcosa perché non ci sto vedendo io ragazzi sto riprendendo a cazzo eh ma quella è una chiesa beh sei sicuro che è stata una buona idea io mi fido del tuo del tuo istinto di sopravvivenza se voi vi rendete conto di cosa mi fa fare eh vabbè 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 mi sono sentita un attimo qualcosa io continuo a seguirti a sapere ah cioè per la sede aspetta sempre la sua donna fantastico mio marito e poi sarà bellissimo vedere le inquadrature della mia faccia in primo piano orribile e il suo culo in primo piano eh spegni no non spegno ciao ragazzi siamo tornati sani e salvi in macchina ce l'abbiamo fatta che scarpinata però vabbè è una bella scarpinata anche perché siamo usciti da dietro quindi non sappiamo dirvi esattamente niente di quella casa sinceramente io non so l'epoca più o meno mi sembra che risolga l'ottocento secondo me l'ottocento, l'novecento non di più, non di meno perché comunque è passata mi si è attaccato scusate hai scassato tutto no è tutto a posto scusate e baciate al sole bene ragazzi io spero che vi sia piaciuto il video mi raccomando vi ricordo sempre di fare un bel like al video caldo dell'interno iscrivetevi sotto il canale e grazie da che parte aspetta da Tati di qua? si iscrivono? ah di qua si iscrivono qua qua ok beh ok perfetto ciao ragazzi Tati e Bepuzzo ciao 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 ciao